Un bambino mi ha chiesto se dire ha fatto un errore a dare all'uomo il libero arbitrio per amore ho pianto per l'innocenza della sua domanda ed è lì che ho visto come ti comanda se tutte le religioni sono sbagliate a prenderne una ma allora qual è quella giusta? c'è chi dice nessuna ma se gli uomini dicono che è il potere di Dio che decide c'è chi si chiede perché ci divide quale Dio? quale Dio? quale Dio vorrebbe questo? quale Dio? quale Dio? quale Dio? vorrebbe il male e non l'amore? quale Dio? e allora se è vero che il potere è perché usa ciò che vuole il popolo per sottomettere il popolo è perché ciò che teme di più di un popolo è la sua consapevolezza e contro la ragione e contro la ragione usa la violenza quale Dio? quale Dio? quale Dio? quale Dio vorrebbe questo? quale Dio? quale Dio? Vorrebbe male non l'amore quale Dio Dobbiamo stringersi di più Ma nel senso universale io, tu Dobbiamo unirci fuori e dentro Perché il punto è proprio questo L'incontro, lo scontro Puoi stare in silenzio, puoi fare la pace Puoi fare l'amore Come Dio Che farebbe proprio questo come Dio Come Dio Come Dio E vedrai che ci salviamo amore mio E vedrai che ci salviamo amore mio E vedrai che ci salviamo amore E vedrai che ci salviamo amore